La parola è tutto, la parola è il centro per un cantautore, per un attore, ma anche semplicemente per comunicare. Noi lo facciamo, io cerco di farlo attraverso appunto l'arte con la mia seconda famiglia musicale, Claudio Turner alla chitarra, Cristian Raga con la batteria, Luca Masi al contrabbasso e stasera presentiamo un certo paradiso. Manu Squillante ci regalerà le sue emozioni, Manu Squillante ci farà viaggiare nel suo universo, nei suoi sogni, anche magari chissà, forse nei suoi incubi, nelle sue paure, quello che attanaglia un poco la vita di un artista, ma soprattutto la vita di un giovane artista. Siamo davvero felicissimi di inaugurare questa rassegna con di grandissimi professionisti organizzati appunto da Antonio De Rosa con il supporto di Pasquale Petrosino, è tutto uno staff meraviglioso, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Grazie mille. Pensa col teatro, il gioco serio del teatro.